L'onda che interferisce è all'incirca sui 8 kHz. Ce ne sono diverse di onde lunghissime. Ce n'è una sui 12 kHz, ma c'è qualcuna anche più bassa, siamo su 1 kHz addirittura. La componente magnetica penetra qualsiasi ostacolo. E' un cavetto di rame, non è un ostacolo. Questo interferometro sente il segnale in onde lunghe, pur lavorando su frequenze molto elevate, su 750 MHz. Questo è 735.130 MHz. Un oscillatore variabile con la tensione. Voltage Controlled Oscillator. E questo è il segnale che si sente. Contemporaneamente si vede la variazione di tensione. Si sente un ritmo, poi varia, si vede, ed è probabilmente la trasmissione di una telefoto in onde lunghissime. La tensione viene convertita in frequenza udibile. A quanto si vede, l'oscillatore è stabile, relativamente stabile, però risente anche lui dell'interferenza. A quanto si vede, l'oscillatore è stabile, relativamente stabile, relativamente stabile, relativamente stabile. A quanto si vede, l'oscillatore è stabile, relativamente stabile. A quanto si vede, l'oscillatore è stabile, tipo schifo porta.